Assessore Berlino, dopo non poche polemiche e discussioni con le ferrovie sembra si sia trovata la quadra. Sul trasporto regionale i segnali in positivo ci sono o no? I segnali in positivo sono che abbiamo superato il primo mese e mezzo del nuovo orario cadenzato e della somma tra regionali lenti e regionali veloci che hanno un po' rivoluzionato il modo di spostarsi in Regione Liguria. Dobbiamo dire che a parte alcune sacche dove rimane ampia la discussione ma che riguarda in parte i viaggiatori e in parte i territori per il resto della regione a fronte di circa 110-120 mila passeggeri che quotidianamente usano il treno in Regione Liguria abbiamo avuto in questo mese e mezzo circa 300 segnalazioni di servizio di modifiche di orari quindi che vuol dire sono un numero piccolissimo rispetto alla grande massa dei viaggiatori. Tra l'altro segnalazioni che poi raggruppate in gruppi perché molte sono molto simili se non uguali nella segnalazione nella richiesta hanno dato il modo a noi e a Ferrovie della Trenitalia di vedere cosa poter fare e molte di queste segnalazioni, di questi gruppi di segnalazioni lamentele si è trovato soluzione mediante le modifiche all'orario o ai treni che sono state già messe in atto a gennaio che verranno messe in atto entro il 14 di febbraio. Quindi su questo punto siamo ottimisti anche perché abbiamo sempre premesso che il nuovo orario è un orario sperimentale e che sarà soggetto a variazioni anche sulle richieste, sulle segnalazioni di chi il treno lo prende quotidianamente.